La forza della testimonianza è quella capace di lasciare un segno indelebile, contornato da una emozione unica, come ha fatto Rosaria Cascio, allieva di padre Pino Puglisi, incontrando alcuni allievi della ragioneria, dello scientifico e del classico di Castrovillari. Cascio, che insegna in un liceo a Palermo e che ha scritto diversi libri su padre Puglisi, da quando aveva 14 anni, sino a 28, sino a quando la mafia lo uccise nella sua brancaccio, dove stava man mano facendo la rivoluzione silenziosa, sottraendo preziosa mano d'opera ai boss locali, si è nutrita del Vangelo messo in pratica dall'azione di padre Puglisi, l'uomo del sorriso, capace di amare anche il suo assassino. Si intuisce che l'eredità, che il primo martire di mafia, così è intitolato l'ultimo libro di Cascio, è davvero pesante. L'eredità di padre Pino Puglisi non è per niente un'eredità facile. In genere la parola eredità è qualcosa che suona bene perché uno non vede l'ora di riceverla. In questo caso è un'eredità che si coniuga con un'altra parola che finisce con l'accento sulla responsabilità. Ricevere l'eredità di padre Puglisi significa assumere con responsabilità il compito di diventare testimone. Testimone non è chi testimonia ad un processo, testimone è anche quell'arnese che si passano durante la staffetta agli atleti. Significa che la mafia ha pensato di uccidere padre Puglisi e di seppellire il suo testimone. Non hanno capito che bisognava uccidere il testimone di padre Puglisi, cioè il suo progetto, il suo metodo, il suo modo di lavorare. Quel testimone adesso è nelle nostre mani, soprattutto di chi con padre Puglisi è cresciuto, con padre Puglisi ha costruito alternative nella città di Palermo e adesso come educatori ovunque. Quindi è una parola che implica per chi la riceve, per chi decide di abbracciarla, una grande responsabilità. Qual è il ricordo più bello, più vivo che conserva ancora di padre Puglisi? Con padre Puglisi ho vissuto tantissime esperienze e sono state tutte belle perché sono state esperienze vissute a 14 anni, dai 14 anni in su. Età in cui si vivono momenti anche semplici visti da adulti, che invece in quel momento sono tutta la tua vita. Avere un adulto significativo che stava ad ascoltare quelli che per noi potevano essere dei drammi, quelli che per noi potevano essere delle gioie enormi e che invece oggi da adulta capisco che erano soltanto dei momenti di vita. Ecco, aver avuto questo tipo di adulto accanto è stata una risorsa importantissima. Quindi ricordo con tantissima precisione i momenti dell'ascolto, quelli sono stati quelli che mi hanno segnato di più. L'ascolto con padre Puglisi era un ascolto attivo, è una terminologia precisa, la dico da insegnante. L'ascolto attivo significa riuscire a fare entrare dentro di te quello che l'altro ti sta dicendo e far sì che qualcosa che tu ricevi ti cambi per poter restituire. E allora da educatori, secondo lo stile puglisiano, l'ascolto attivo è una modalità di essere e non di fare gli educatori. Una pagina di scuola davvero unica, quella vissuta il 21 ottobre 2017, giorno della memoria liturgica del Beato Puglisi, esaltata dalle parole del Preside Bruno Barreca. Una giornata che si può sintetizzare nell'attenzione che i ragazzi hanno avuto per tutti gli interventi. Una giornata importantissima che rientra nelle nostre attività che svolgiamo per l'educazione alla legalità. Una giornata di grande soddisfazione e di grande emozione. Non ha rinunciato alla ghiotta occasione il vescovo di Cassano, Francesco Savino, per ribadire ancora una volta quanto sia fondamentale per seguire la legalità, rinunciando ad ogni compromesso e bandendo ogni forma di schiavitù, invitando i giovani calabresi a studiare per ribellarsi alla sopraffazione delle mafie. E prendendo spunto dall'esempio di padre Puglisi che dice Dice che la santità è possibile, dice che dobbiamo vivere con il Vangelo tra le mani e nel cuore, testimoniarlo, non scendere mai a compromessi, cercare di non cedere alla rassegnazione, a quell'adagio che molto spesso sento in giro nel nostro territorio che le cose non possono cambiare. Il cambiamento siamo noi e sono profondamente convinto che se ci mettiamo insieme ce la possiamo fare. Soprattutto per recuperare la cultura dei diritti, per recuperare un po' la cultura della legalità, cercando di rompere quel terribile cerchio del rapporto fra economia e corruzione. La Calabria è bella, la Calabria va vissuta, i calabresi hanno un grande cuore, una grande intelligenza, sono dei cuori pensanti i calabresi, il problema è che dobbiamo liberarci appunto dal tallo della rassegnazione, dal tallo del compromesso, qualche volta anche dal tallo dell'indifferenza, dal tallo di chi dice sto bene io, non mi interessa degli altri, il tallo del narcisismo e del pelatismo, e poi ritengo che la Calabria ha bisogno di essere evangelizzata. Colgo l'occasione anche per dire che la religiosità popolare è una risorsa, va purificata, ma deve diventare il luogo, anche esso il luogo della religiosità popolare deve diventare il luogo di incontro con Gesù nell'intercessione dei santi. Il rischio terribile che noi corriamo è pensare che la santità si riduca soltanto ad un simulacro. Guai se padre Pino Puglisi diventasse per tutti noi soltanto, che dire, un'immagine. Se le immagini fanno bene, abbiamo bisogno, come devo dire, è chiaro che dobbiamo rinunciare tutte le immagini idolatriche. L'immagine deve riportarci alla sostanza, alla vita, al vissuto, allo stile di vita, in questo caso di un Pino Puglisi, che ci ha insegnato che è possibile essere cristiani, è possibile essere educatori, è possibile essere preti normali, perché lui è stato un cristiano, un educatore, un prete, però che ha saputo mettere a centro assoluto il Vangelo, educando le persone, e non è mai sceso a quei compromessi che poi non ci consentono più di essere liberi. Don Pino Puglisi è stato quello che è stato perché era un uomo libero.